Qualche problema negli ultimi mesi c'è stato alle piscine l'Enaia di oggi, lei dottor Sarriocco vuole puntualizzare alcune cose, vuole anche parlare di questo rapporto con la regione Abruzzo che è proprietaria di questa struttura, anche su quello che è accaduto negli ultimi tempi. Cerco di rappresentare il meglio possibile la verità in modo che senza creare polemiche ma soltanto nella condizione di creare una maggiore collaborazione tra noi e i nostri utenti. La risorsa di questa struttura rappresentata sempre da coloro che ci vengono perché la concorrenza c'è, aumenta sempre ed è giusto che noi rispondiamo con le verità e con i servizi migliori. È giusto che io chieda oggi anche alla regione uno sforzo, un impegno nei confronti di questa struttura, non nei confronti di questa società che lo gestisce. Andare avanti soltanto con lettere, protocolli, richieste per poi non giungere a nulla fa sì che ci troviamo in una situazione di stallo che preferisco che in questo periodo non ci sia. C'era stato qualche problema nelle scorse settimane anche, si diceva, per la temperatura dell'acqua, qualche genitore si è lamentato, tutto risolto? Sì, tutto risolto. Noi quotidianamente con i nostri manutentori prendiamo le temperature che sono costantemente sopra la temperatura che è stabilita dalla Federazione Italiana Nuoto e dalle altre federazioni. Però da padre di famiglia, visto che oggi è anche la festa del papà, mi preme dire e sottolineare sempre che nonostante la Federazione mi dà una temperatura molto bassa, molto bassa, mi dà una temperatura di 26 gradi o di 24 gradi, io normalmente faccio notare i ragazzi, i bambini, ma non solo i bambini, hanno una temperatura più alta per dare una maggiore sicurezza. L'ultima cosa, ha parlato di progetti futuri, cosa state pensando per rilanciare ulteriormente questa grande struttura? Abbiamo già pensato, abbiamo fatto una proposta di un investimento di mezzo milione di euro, più il pagamento del canone nei confronti della regione, già da subito. Se è possibile avere una proroga tecnica per far sì che l'impianto sia messo nelle condizioni migliori per chi potrà venire successivamente a voler gestire. Sicuramente noi non ci tireremo indietro a partecipare al nuovo bando che sarà dato alla regione, ma abbiamo chiesto che tutto venga rimesso a zero, in un punto zero in cui l'impianto sia norma, è un impianto che sia in condizioni, che possa accogliere tutti nel miglior modo possibile, che possa essere un'eccellenza. Speriamo che le istituzioni, perché chiedo molto perché è necessario, le istituzioni siano vicine, non che giochino a fare qualcosa di diverso.